Ciao a tutti, ben ritrovati per questa nuova puntata di In Cucina con lo Chef, con me Antonella E con me, il nostro Chef Nicola Bizzardi Bene, la ricetta di oggi, calamari farciti con verdure e gamberi E lo adageremo su una purea di piselli Gli ingredienti sono calamari, per quanto riguarda le verdure che andremo a mettere all'interno Carote, taccole, una striscia di peperone giallo, una di rosso E lo adageremo su una base di purea di piselli che faremo con cipolla, olio extravergine d'oliva e piselli Andiamo? Procediamo? Bene Per prima cosa, dobbiamo preparare le verdure da mettere all'interno del nostro calamaro Quindi prenderemo un po' di... Di solito non metto il pane, fa qualche cosa, diciamo, diverso nell'impasto, no? Adesso facciamo invece con le verdure Che andremo un attimo a spadellare un po' prima Ecco qua Olio extravergine d'oliva Andiamo un attimo a insaporire, no? Sì, sì Per dargli quella rosolatura E inizio cottura Un po' di... Veroni Abbiamo le nostre taccole Poi questi sono tutti i colori che troveremo all'interno, no? Del calamaro Sì, sì Poi lo avvolgeremo Lo metteremo in una pellicola che faciliterà un po' La farcitura Eccola qui Apposto Pizzico di sale Lasciamo un attimo cucinare Possiamo mettere anche qualche rametto di rosmarino Per... Rosmarino o timo Quello che abbiamo per profumarle Olio extravergine d'oliva Lasciamo Cucinare La cipolla Metteremo I nostri piselli Metteremo i nostri Piselli In ogni casa C'è una busta di piselli, no? Un classico Come le uova Le uova si mancano nel frigo Sembra che manca qualcosa a volte, no? Aggiungiamo un filo d'acqua Da... Proprio Così Sei, sette minuti E andremo a frullare E si frullano Finiamo di pulire I nostri gambini Togliamo la testa Diamo la Sua corteccia Ecco qua In questo caso Si serve da solo È venuto il budellino Che non abbiamo bisogno di inciderlo Abbiamo rosolato le nostre verdure Appoggiamo sul nostro piano d'ecton Tanto non si fa niente Tanto ormai Abbiamo la... Abbiamo la pellicola Che ci permette di facilitare La farcitura del... Del calamaro, no? Come i bisturi Facciamo così Cominciamo a mettere un po' Così a casaccio Le nostre verdure Così sono belli puri colori Eh sì Poi quando andremo a tagliarlo Avremo veramente Un bel... Chiamo i nostri Gamberi Qua, così Gamberi crudi? Sì, gamberi crudi Perché comunque Basta poco calore Per poterli Cucinare Sì Ecco qua Dovremmo quasi esserci Diciamo così Andiamo un attimo Ecco Ad avvolgerli Vedi? Così Bene Taglieremo questa parte Qua In modo da facilitare subito Poi L'uscita dei nostri Andremo così Ecco qua Come mi metto Semplicissimo Semplicissimo Premiamo Premiamo Facciamo giusto un buchino Per far uscire Un po' l'aria Dell'aria Che si può Sì Mettiamo così E poi Non facciamo altro che premere E togliere la nostra pellicola Spero che la tolgono a casa pellicola Vabbè Bisogna ricordarsi Abbiamo il nostro Calamaro Farcito In pochissimi Minute Mettiamo La nostra Testa E andiamo a sigillare E andiamo a sigillare Con uno stuzzicarende Un'altra In un tegame Olio extravergine Di oliva Rigorosamente 100% italiano Abbiamo Del cipollotto Abbiamo Facciamo un attimo Lo solare Mettiamo qualche foglia Di alloro Qualche rametto Di timo Mettiamo il nostro Calamaro Un pizzico Di sale Io farei una cottura Con fuoco Moderato E coperto Al limite Andremo a bagnare Con un goccio Di acqua Per dare Un po' di sughetto Sì Per fare un po' Ma non ci serve Il sughetto Ci serve un po' di Così Un goccio di acqua In questo caso Possiamo Mettere Le teste Di gambaretti Che abbiamo Sgusciato Quindi per fare Un po' un fondo Per dare un po' così Copriamo E lasciamo Passare 7-8 minuti In modo da Cucinarsi In ambe due Le parti Anche perché Il calamaro È sozzile Le verdure Ci sono state Ammorbidite Precedentemente Quindi aspettiamo I tempi di cottura I nostri piselli Si sono stufati Per 6-7 minuti Quindi Un bel colore verde Il solito Il colore verde Questo Non ci dico Senti che bel profumo Il nostro Calamaro Andiamo giusto Una frullatina Ai nostri piselli Il nostro calamaro E il bello Verrà adesso Quando vogliamo A tagliare Quello che ci abbiamo Messo dentro Andiamo Facciamo così Guarda è bello È fatta la bandiera D'Italia Guarda è bello Guarda è bello Guarda è bello E che devo dire Mettiamo un po' Di Piselli Frullati Gressonali Ecco qua Mettiamo la testa così E cominciamo 1 2 3 Questo è lo primo Che faccio a casa 4 E 5 Mettiamo un po' Il suo vetto Di cottura Speriamo le persone Che stanno a casa Che stanno attenti Quando facciamo le ricette Perché Mettiamo appetibilità Guarda che bello Sì Un po' di Base Cottura Piatto coloratissimo Un filo d'olio Extravergine d'oliva Ci va sempre Ci vuole buono Signori Non vi resta che dire Buon appetito Buon appetito Augurandoci che anche questa ricetta Vi sia piaciuta Vi ha colpito nel cuore Vi diamo appuntamento Alla prossima puntata Sempre su questa rete Arrivederci Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale Pasta La Molisana Olearia Ortuso Del Giudice Il Fiore del Latte Cupido Hot Plate DS Service